Allora, ricominciamo con la sessione con il direttore generale, segretario generale e direttore generale del comune di Prato, che appunto porterà l'esperienza che in questi anni si è cercato di mettere in pratica, non senza difficoltà, ma insomma, il dottor Gerardi. Grazie a tutti e benvenuti innanzitutto. Io cercherò di sfruttare l'effetto caffè che produce in tutti automaticamente un'attenzione, anche magari quando il relatore non è particolarmente brillante. Detto questo, io parlo e non sono assolutamente un esperto di statistica, quindi sarò visto da voi un po' come un eretico, ma io sono un cliente della statistica. A me i dati statistici servono per usarli assieme all'amministrazione, ovviamente, e soprattutto per la fase di programmazione, controllo e valutazione. Quindi io cercherò di rappresentare un po' qual è l'utilizzo e la necessità che abbiamo di dati statistici all'interno del comune di Prato. Devo dire, al comune di Prato abbiamo, ora non lo dico perché sono tra noi, ma un ufficio molto efficace, di persone molto preparate in campo statistico e quindi grazie a questo loro lavoro, a mio parere, abbiamo degli strumenti di programmazione che sono di un livello sicuramente accettabile. Credo che si viva sempre più in una realtà veloce, in una realtà che è molto legata ai bisogni che va a registrare. Cioè, un qualsiasi ufficio serve, si intercetta un bisogno. Se il bisogno non c'è, si rischia di diventare superflui. Questo vale per la statistica, per la direzione generale, per qualsiasi ufficio che si trovi a operare all'interno di un'amministrazione. La stessa velocità, a mio parere, richiede, non perché lo dicono le direzioni generali, ma richiede che il dato statistico sia un dato veloce, sia un dato recente, perché se mi arriva a me una statistica anche perfetta, che risale a qualche anno fa, io rischio di usarla, io rischio, l'amministrazione rischia di usarla, per una programmazione di una realtà che è già cambiata. Quindi la mia preoccupazione, barra raccomandazione, è sempre quella di avere un dato, anche se non è perfetto, e qui lo so che parlo con persone che giustamente scientificamente ritengono che il dato debba essere il più possibile vicino alla regione o alle certezze. Però io penso sempre, detto proprio brutalmente, che il meglio è il nemico del bene, quindi per chi fa programmazione è meglio avere un dato un po' più grezzo, ma più recente, piuttosto che un dato perfetto, risalente. Parlavo del bisogno, non vi annoierò sulla storia della pubblica amministrazione, che conoscete sicuramente quanto messa e non di più, però è evidente che dagli anni 90 inizia un percorso che fa nascere un bisogno, il bisogno di programmazione, il bisogno di trasparenza, il bisogno di coinvolgimento del cittadino. Si rovescia, il cittadino non è più quel suddito rispetto al quale l'amministrazione aveva un ruolo unidirezionale. Il cittadino diventa un cittadino che giustamente pretende, che chiede, che si informa e se in questo meccanismo inseriamo anche l'avvenuta poi elezione diretta dei sindaci, andiamo a chiudere un percorso nel quale il sindaco che è eletto, è un sindaco che è eletto anche per le cose che promette ai cittadini, e rispetto alle quali finalmente i cittadini hanno dagli anni 90 in poi anche gli strumenti per rivendicare e per verificare l'attività effettiva di un'amministrazione rispetto a quello che aveva promesso durante la campagna elettorale. In questa slide ci sono solo alcune delle leggi di riferimento che sicuramente conoscete ma che non mi sembra neanche il caso di citare, però volevo partire proprio dal bisogno che nasce di una migliore programmazione perché il sindaco è chiamato a rispondere più direttamente ai cittadini in quanto è dagli stessi direttamente eletto. Cosa facciamo a Prato e qual è il bisogno di statistica che abbiamo al Comune di Prato e come l'abbiamo tradotto? È stato detto all'inizio che abbiamo collocato l'ufficio statistica nell'ambito della direzione generale, questo perché è assolutamente fondamentale che sia collocato a livello apicale e che garantisca trasversalità in risposta a tutti gli uffici e anche perché francamente io penso che viceversa si rischia di individuare, di pensare che nei Comuni l'attività di statistica sia un service che si fa all'Istat in determinati periodi rispetto ai quali c'è un'attività di censimento. A mio parere se prevalesse questa seconda impostazione e concezione si rischia che l'attività di statistica nella scala dei bisogni possa scendere in un momento in cui di risorse finanziarie, umane e strumentali ne abbiamo sempre di meno purtroppo da utilizzare. Quindi abbiamo fatto questa scelta anche perché ha conseguito a questa scelta anche la collocazione della definizione del DUP nella direzione generale. Io ho pensato, abbiamo pensato assieme all'amministrazione e all'ufficio di mia stretta collaborazione che il DUP non vada pensato come uno strumento ragioneristico ma che il DUP debba nascere in chi segue la programmazione e chi si occupa di cercare faticosamente di porre in essere quelle azioni per attuare il programma di mandato che il Sindaco presenta al Consiglio e rispetto a quale ottiene un'approvazione che prima vota da cittadino e poi ottiene dal Consiglio. Quindi l'utilizzo della statistica nella predisposizione del documento unico di programmazione, l'utilizzo della statistica nei percorsi di valutazione delle performance e di valutazione della dirigenza. Cercherò di raccontarlo dopo anche questo secondo passaggio perché un elemento che abbiamo affrontato subito al Comune di Prato è se i dati statistici ci dicono che la città di Prato, il Comune di Prato, non va benissimo, è del tutto irragionevole e inspiegabile che la dirigenza non abbia una valutazione collegata all'andamento della città su indicatori ovviamente che la dirigenza in qualche modo possiede e su quali ha una capacità di intervento. Ovviamente ci possono essere altri indicatori sul benessere di una città che non sono governabili e governati dai dirigenti dell'ente e quindi rispetto a quelli non possiamo avere una responsabilizzazione in termini di risultati. Lo farò vedere in una slide successiva qual è il sistema di valutazione che abbiamo pensato e che richiede il supporto anche in questo caso dei dati statistici. E' stato detto anche prima, un'altra attività che è stata richiesta dal 2012 negli enti è la predisposizione del piano di prevenzione della corruzione. Vi dirò e vi spiegherò anche come gli elementi statistici hanno un interesse importante nell'ambito della costruzione di un piano di prevenzione della corruzione che sia quindi il più possibile calato sulla realtà all'interno della quale va a spiegare i propri effetti. Qui brevemente c'è, lo conoscete sicuramente, come è articolato il ciclo della programmazione lo dicevo prima, si parte dal programma di mandato di un sindaco che dura 5 anni si passa poi attraverso, quantomeno nel nostro comune, direttamente al documento unico di programmazione che ha una parte strategica collegata di stessa durata del programma di mandato del sindaco e la sezione operativa che invece dura 3 anni. Dura 3 anni perché è triennale, come sapete, anche la programmazione finanziaria negli strumenti di finanza locale, pertanto la programmazione operativa è collegata alla programmazione di bilancio. Anche questa slide rappresenta nel comune di Prato, credo sia ragionevole ipotizzare uno stesso percorso anche negli altri enti, rappresenta questa slide, come nel nostro comune è organizzato in questo circolo virtuoso della programmazione l'attività ciclica a queste finalità impostate. Faccio una premessa che per noi è fondamentale. Tutto questo vale se non diventa carta straccia, solo se un'amministrazione riesce a provare i propri strumenti di programmazione finanziaria e strategica a inizio anno. Noi siamo riusciti a Prato per la prima volta l'anno scorso ad approvare il bilancio in Consiglio Comunale il 22 dicembre, quindi dell'anno prima, per cui noi abbiamo dato a dirigenti e a strutture obiettivi e dotazioni finanziarie, quindi abbiamo approvato il PEG a inizio anno. Il primo gennaio del 2016 i nostri dirigenti avevano obiettivi, risorse, strumenti. Il 21 dicembre, non è ancora finito. Dico questo perché viceversa, se io tutta questa cosa la faccio, ci lavoro, impiego risorse e personali e la approvo al novembre dell'anno in corso, a mio parere si perde tempo tutti. Non siamo più così rappresentativi di un bisogno reale, perché arriviamo a consuntivo, raccontiamo cose, magari ne sono successi altre, perché è ovvio che il Comune non stia fermo in quei 9-10 mesi in cui non c'è il bilancio. Parte, va, verifica, va, agisce e nessuno verifica. Si fa una programmazione sostanzialmente di consuntivo. Quindi secondo me non ha senso che ci siano questi strumenti se non c'è il presupposto fondamentale di approvare il bilancio prima possibile. Può andare bene anche gennaio, febbraio, però deve essere a inizio esercizio. Stiamo lavorando a bilancio 2017, io spero si riesca anche quest'anno a approvarlo prima possibile. Quindi sezione strategica e sezione operativa. Ecco qui abbiamo già un primo intervento dell'attività, dei dati statistici nella predisposizione del DUP. Perché chiaramente è importante avere un'analisi SWOT del territorio, assistita quindi dai dati statistici, per impostare le politiche dell'amministrazione e quindi anche la programmazione operativa. Quindi l'analisi della struttura economico-sociale del nostro territorio è un elemento portante e una premessa indispensabile del nostro DUP. Quindi un primo utilizzo importante dei dati statistici l'abbiamo nell'analisi della struttura economica che è una parte importante del nostro DUP. Qui ho semplicemente elencato nell'analisi della situazione esterna, quindi la situazione economico-sociale del Comune, quali sono i documenti che sono stati utilizzati dal Comune di Prato. Quindi abbiamo chiaramente il documento di economia e finanza predisposto dallo Stato, abbiamo gli scenari regionali dell'IRPET e abbiamo anche i dati della Camera di Commercio. Così come importante, perché Prato è, come sapete, tra i comuni che ha partecipato al rapporto URBES-ISTAT i dati del benessere economico e solidale nel Comune di Prato. Noi abbiamo riportato proprio all'interno del nostro DUP, sottolinando il fatto che il Comune di Prato è tra i comuni interessati, gli indicatori che sono stati scelti in questo gruppo di lavoro e che sono serviti a noi nel DUP per fotografare la situazione di Prato e quindi per rendere più possibili le politiche tali da incidere e migliorare quei parametri, quegli indicatori che in base ai dati statistici non erano particolarmente positivi o comunque meritavano un certo tipo di miglioramento. Ovviamente i dati statistici ci sono serviti nell'ambito del DUP non solo per l'analisi del contesto esterno ma anche per quello interno, per cui abbiamo anche il dato statistico utilizzato per tutta una serie di analisi di carattere finanziario e di capacità di intervento da parte del nostro Comune per migliorarsi. Io quando sono arrivato al Comune di Prato una domanda che ho fatto ai nostri dirigenti degli uffici tecnici è chiedergli quanti cantieri avessimo aperti a Prato. Nessuno è stato in grado di darmi un'informazione e questo in un'azienda è come se un'azienda che fa frigoriferi non sa quanti frigoriferi ha in produzione. Abbiamo quindi realizzato anche grazie al supporto della statistica uno strumento informatizzato e oggi sappiamo noi i cantieri del Comune di Prato dove sono, i cantieri del Comune di Prato sono stati tutti georeferenziati, abbiamo imposto ai nostri tecnici uno strumento anche abbastanza felsibile in base al quale non abbiamo un aggiornamento costante, oserei dire quasi online di come stanno andando l'attuazione delle nostre opere pubbliche. A me come direzione generale interesserebbe sapere anche i tempi e come va il trend rispetto a quando un'amministrazione progetta un'opera e quando il sindaco taglia il nastro. Qual è la capacità, la performance del Comune di Prato da quando progetta a quando taglia il nastro, quali sono i tempi e soprattutto i tempi medi del Comune di Prato come sono paragonati ai tempi medi di una città simile, dico Brescia ad esempio che ha circa 200.000 abitanti come noi. Ecco questo secondo me sarebbe un'altra applicazione interessante della statistica perché più informazioni si hanno anche all'interno dell'ente e più chi si deve occupare di miglioramento della performance ha strumenti tali per a volte anche inchiodare i responsabili ponendoli a paragone con le performance migliori di altri enti oppure ha la possibilità a livello organizzativo di attivare percorsi per migliorare la propria performance e quindi la statistica sia come studio del contesto esterno ma anche e forse come direzione generale ancora di più come miglioramento del funzionamento della macchina interna. Questo è un po' come è rappresentato il nostro dupe, noi abbiamo cercato di fare un dupe leggibile da chiunque perché il superamento della relazione previsionale e programmatica è stato fatto anche per togliere quel voluminoso libro che era l'ARPP che nessuno leggeva e che spesso era fatta da ragioniere e molto molto spesso anche con dei copia e incolla che nessuno ha mai scoperto perché nessuno ha mai confrontato l'ARPP da un comune all'altro. Il nostro penso sia un dupe sostanzialmente intelligibile da chiunque abbiamo gli ambiti strategici che sono quattro, la città da promuovere, la città smart, la città da abitare, la città per tutti, gli obiettivi strategici. C'è poi un ambito strategico trasversale che è quello della città innovativa ed efficiente che fa appunto e qui c'è anche l'attività statistica diventa un elemento di trasversalità perché l'innovazione per come la pensiamo noi non è un fine ma è uno strumento per attuare le politiche, per attuare gli obiettivi che l'amministrazione si è data. Quindi dal programma di mandato a questi ambiti strategici ai progetti strategici. Questa è la parte strategica appunto del dupe. Io non so se si legge, qui ci sono alcuni indicatori che noi usiamo per monitorare lo stato di salute della città. È una cosa innovativa ovviamente per quanto ci riguarda però volevamo e vogliamo e l'abbiamo fatto quest'anno per la prima volta individuare alcuni indicatori che dessero appunto lo stato di salute della nostra città. Non sono tutti, io ne estratti alcuni. Abbiamo pensato alcuni indicatori appunto che oltretutto come dicevo all'inizio posti sotto la responsabilità in qualche modo dell'amministrazione dei dirigenti che ci servissero anche poi a capire la nostra performance di ente a che punto si collocasse. Quindi quante imprese attive, l'andamento delle imprese attive, l'andamento delle attività produttive nel centro storico, le presenze turistiche, i nostri tempi medi di risposta alle segnalazioni d'emergenza, il rapporto rispetto all'illuminazione pubblica, chilometri di strada e punti luce. Cioè noi siamo convinti che se riuscissimo a migliorare questi parametri il Comune di Prato realizzerebbe una performance di ente sicuramente superiore a quella attuale. Abbiamo incominciato a fare questa verifica perché vogliamo migliorare su questi aspetti e migliorando su questi aspetti secondo noi le politiche del programma di mandato dell'amministrazione non possono che migliorare l'inquinamento dell'aria, la fruibilità dei parcheggi, quanto vengono utilizzate le nostre strutture sportive, il livello di abbandono scolastico. In parallelo a questo altri indicatori li stiamo usando per capire come va il Comune di Prato. Quindi non soltanto la città di Prato ma l'ente comune come si posiziona. Anche qui a me farebbe molto piacere se questi indicatori potessero essere il più possibile condivisi in un percorso di confronto tra città simili. Io ricordo a Bergamo nel 2011 quando facevo il direttore lì c'era un benchmarking club di alcuni comuni che erano intorno ai 150.000 abitanti e si confrontava i tempi di attesa in un'anagrafe con i tempi di attesa in un'altra anagrafe. La soddisfazione delle richieste di l'esilinito di una città rispetto a un'altra. Insomma capire come siamo posizionati perché se uno guarda solo se stesso non capisce se è bravo o se non lo è. Magari un dato può sembrare ottimo, lo confronta con gli altri e purtroppo magari deve cambiare idea. Questi indicatori ci servono per capire come il nostro comune funziona. Non sono tutti, sono alcuni. Questo ci serve anche per l'altra cosa che dicevo all'inizio. Cioè come è valutata la dirigenza del comune di Prato a partire dal sottoscritto? Proprio per evitare quella polemica che spesso si legge sui giornali anche del cittadino che dice la città funziona non benissimo, i dirigenti prendono valutazioni altissime. Come stanno insieme le due cose? Gli indicatori di prima a noi ci consentono di poter far incidere lo stato di salute della città e lo stato di salute dell'amministrazione rispetto alla valutazione complessiva che diamo alla dirigenza. Così come il grado di realizzazione delle strategie che abbiamo inserito nel DUP. Per cui questi 15 punti che incidono su 100 vengono valutati per tutta la dirigenza. Questo ci consente anche di fare squadra perché ogni dirigente sa che l'attività che lui presidia, se la presidia male o la presidia bene avrà un effetto anche sulla valutazione del collega. Quindi 15 punti sono dati proprio grazie a questi indicatori che l'ufficio statistica fortunatamente è in grado di darci per monitorare lo stato di salute della città e quello del nostro comune. Ovviamente poi nel resto della valutazione incideranno gli obiettivi individuali dati al dirigente e la parte del comportamento cosiddetto manageriale. L'ultima applicazione è quella che anche ANAC ha chiesto in alcune direttive fatte alla fine del 2015 perché si accorte che anche in questo caso, così come con l'ARPP, molti piani di prevenzione della corruzione erano copia e incolla. È capitato anche a noi di Prato che un ente si fosse rifatto al nostro e avesse lasciato addirittura purtroppo nel proprio ente il nome di Prato e ha creato poi un meccanismo di interrogazioni consigliari anche piuttosto imbarazzante. Ma non lo dico perché ha citato Prato, poteva essere un altro comune. A volte e quindi ANAC dice attenzione il pieno anticorruzione deve essere calato sulla realtà. Se non è calato sulla realtà è come se non venisse stato fatto, se non fosse stato fatto. Conseguentemente chiede l'analisi del contesto esterno e interno. È evidente che anche un comune rispetto all'andamento della criminalità sul territorio avrà dei livelli di attenzione diversi su tipologie di reati diversi, alcuni dei quali possono purtroppo intersecare l'attività dell'amministrazione. Quindi un'altra applicazione interessante degli studi statistici e dei dati statistici è capire quali sono i problemi di criminalità o di reati o comunque di contesto sociale all'esterno del comune di Prato, come siamo organizzati all'interno e calare delle misure organizzative di prevenzione della corruzione il più possibile calate sulla realtà che il comune di Prato vive. Inizio come ho finito, sono questi i segmenti rispetto a quali operiamo. Ce n'è un altro che non curo direttamente io ma che è la programmazione urbanistica del territorio perché è evidente che anche la predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica in Toscana abbiamo il piano operativo, non possono che avere a monte un'analisi di dati statistici perché come posso pianificare un territorio se non so quale sarà il trend di evoluzione della tipologia dei cittadini e che avrò del bisogno quindi dei cittadini nell'arco di un decennio. Quindi anche le previsioni statistiche ci possono aiutare rispetto a una programmazione degli strumenti urbanistici il più possibile in linea con quella che potrà essere l'evoluzione della città e quindi dei bisogni dei cittadini. Come dicevo tutto questo ha un senso se come fortunatamente nel comune di Prato l'ufficio statistica ha un livello di qualità e di persone capaci, preparate e brillanti così come abbiamo noi perché se facciamo queste cose non è merito della direzione generale, è merito di chi tra i vostri colleghi e tra i colleghi del comune ha queste capacità di fornire il dato a chi deve usarlo. Se non avessimo il dato probabilmente i nostri strumenti di programmazione avrebbero una qualità sicuramente più modesta. Spero di non avervi annoiato troppo, l'effetto caffè probabilmente è finito. Grazie. 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 Grazie.